Resistibile Gaetano Di Nardo, idolo del nord, Marcello Di Nicola, Idrio, Giuseppe Rocco, infatti in novembre, Robi, Andrighetto. Solitario in seconda con il numero 9, ideale Luiz con Enrico Bellei. Otto in prima, uno in seconda fila, nove cavalli di quattro anni per questo Gran Premio Regione Campania. Via la macchina! Chiusura, idolo del nord, attacca Inox Font per il comando, i due alle prese, poi Impetogrif, avalli che affronta una piegata, allunga bene l'allievo di Gubbellini, mantiene il comando, non c'è spazio per l'idolo del nord, l'inserimento di Impeto. Poi Iurius del Ronco, duecento in quattordici e mezzo, e così sul rettilineo di fronte, va a parcheggiare l'idolo al comando, tranquillo. Inox Font, completamente nel quattrocento, tira subito il re in barca, il Pietro il Grande, ventinove e quattro e quattrocento. Imox, Impeto, idolo, Iurius, irresistibile, allargo, infatti novembre. I cavalli affrontano la seconda curva, frazione comodissima, in sedice e due, quarantacinque otti, seicento, tutto tranquillo, calma piatta, con il leader che grado a piacimento, poi viene lì a Iurius del Ronco. Completamento della seconda curva, si va, mezzo miglio, in uno, due e mezzo, e il targato Ronco gradatamente avvicina i primi, pedinati da infatti ideale e anche idrio. Più pariglie già al completamento e chiusura del primo chilometro. Primo chilometro, passato nell'ordine del diciassette, si viaggia più che tranquilli. I cavalli che affrontano la penultima curva, Imox, con allargo il compagno di Tim Iulio, di dentro l'impeto, allargo infatti, di dentro idolo. Frazione comoda, ancora in quindici e sette, si viaggia da uno a diciassette, un po' di spiccioli. I cavalli che affrontano il penultimo rettilineo, non ci sono variazioni sostanziali, il targato Font, con allargo il targato Ronco. Frazione di fronte, ora in quattordici e quattro, si inizia a pedalare, cinquecento alla meta. I cavalli affrontano la curva finale, si va alla chiusura del miglio, miglio in due e uno, meno qualche virgoletta. E siamo al completamento quasi della curva finale, si affaccia infatti november. Di dentro chiuso, impeto griff, tenta lo stacco, Imox, fonda, allargo Iurius, Imox al comando, trova il marco, impeto griff, allargo viene via infatti november. Ed è proprio infatti november. Mentre per il secondo, sul traguardo, impeto griff, viene a bada, Iurius da rotto, e Imox, fonda. Uno, quattordici e sette, vittoria di Roberto Andreghetti, ancora una volta il Roby nazionale, ancora una volta il Roby nazionale, porta a casa un gran premio, mentre impeto griff si supera, battendo sul traguardo, Imox, fonda.